Ciao, mi chiamo Silvia e studio i delfini da vent'anni. Vorrei offrirvi dieci consigli veloci che potrebbero aiutarvi nel caso intendiate percorrere questo cammino. Siete pronti? Ok. Numero uno. Partecipate a congressi e seminari di biologia marina. Potete imparare tantissimo e allo stesso tempo incontrare persone valide che poi potrebbero entrare a far parte della vostra cerchia professionale. Numero due. Concentratevi sul vostro argomento preferito e leggete un sacco di letteratura scientifica, così da saperne il più possibile. Lo so, può sembrare noioso, ma fidatevi, questo è un requisito fondamentale. Tre. Abituatevi a scrivere molto e a sviluppare un'attitudine allo stile e alla chiarezza. E fate attenzione agli errori di battitura. Magari voi non ci fate caso, ma altri li noteranno di sicuro. Quattro. Cercate di conoscere i veri esperti e prestate attenzione alle loro opinioni. Leggete i loro articoli scientifici o cercate online loro interviste e video. In questo modo potrete identificare i professionisti che vi ispirano di più. Cinque. Non fate affidamento esclusivamente sulle email o sulla diffusione del vostro curriculum. Inviare un email ai possibili supervisori può essere un buon primo passo, ma poi provate a incontrarli di persona. Ad esempio andate a trovarli nel loro ufficio, in laboratorio o presso la loro base di campo. 6. Partecipate a corsi di formazione e a campi naturalistici. E quando lo fate, prestate molta attenzione a ciò che fanno gli altri e a come lo fanno. Rimarrete sorpresi da quante cose si possono imparare con la pratica. 7. Siate curiosi e fate domande. Per le persone come me questo non risulta per niente facile, ma per favore non siate timidi e non vergognatevi di chiedere. Fate domande, chiedete consigli, chiedete aiuto. Mi raccomando, chiedete. Mi raccomando. 8. Impegnatevi in ciò che volete fare veramente e dedicate molto tempo e molta fatica a farlo. 9. A me questo punto è servito moltissimo. Concentratevi su un soggetto di studio che vi stia a cuore e magari su qualcosa che possa portare beneficio anche agli altri, ad altre persone, animali o persino a interi ecosistemi. Questo tipo di obiettivo vi darà la carica anche quando dovrete affrontare le tante difficoltà che inevitabilmente troverete lungo la strada. Ed ecco il mio ultimo consiglio. 10. Lavorate sodo e fate sempre del vostro meglio. Vi assicuro che non ve ne pentirete. Buona fortuna. Grazie a tutti.